Avrebbe scavalcato la barriera di una diga per poi precipitare giù per oltre 100 metri. Una tragedia, quella che si è consumata alla diga di Iridracoli a Forlì, dove ha perso la vita un giovane casentinese, Luca Urlandi. È successo sabato pomeriggio attorno alle 16.30. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, si sarebbe trattato di un gesto volontario, ma sulla morte del giovane è stata aperta un'inchiesta per chiarire se sia stato appunto un incidente o un suicidio. Il giovane si trovava a Iridracoli assieme a tre amici per un'escursione. Secondo quanto riferito dai tre ai carabinieri, il gruppetto stava camminando quando il ventenne si è allontanato rimanendo indietro per poi arrampicarsi sulle barriere di sicurezza della struttura, scavalcarle e precipitarle nella parte esterna dell'invaso romagnolo che si trova nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Luca si era mostrato quella mattina un po' silenzioso, ma nessuno avrebbe mai pensato ad una tragedia del genere. Il ragazzo, infatti, sarà diplomato un anno fa, non avrebbe avuto problemi in famiglia né sentimentali. Anche i genitori della vittima sono stati sentiti dai carabinieri. Inquirenti hanno prelevato i cellulari degli amici che si trovavano con lui, al vaglio degli investigatori, anche le immagini delle due webcam che monitorano la diga da due angolazioni diverse alla ricerca di elementi utili. Nei prossimi giorni, infine, sarà svolta l'autopsia sul corpo del ragazzo.